gentili telespettatori buona giornata giorgio meloni parlottano ridono chiacchierano letta con le mani davanti alla bocca per non far per non far vedere quello che sta dicendo per interpretando i movimenti e così non è sfuggito al pubblico del meeting di rimini il separietto tra giorgio meloni ricoletta avvenuto proprio prima dell'inizio del dibattito i due hanno scambiato parole sorrisi conferma che il loro rapporto personale non è poi così malvagio come lo si dipinge però il discorso cambia quando si parla di politica dato che si trovano ai poli opposti e sono l'uno il principale rivale dell'altro il prossimo 25 settembre quasi sicuramente saranno loro a contendersi il titolo di partito più votato in italia nei sondaggi fratelli italia generalmente in leggero vantaggio ma il pd è sempre molto vicino nei due giorni che hanno preceduto il meeting di rimini proprio lette la meloni sono stati protagonisti di un duro scontro a distanza sul palco invece i due leader hanno parlottato senza particolari tensioni a un certo punto letta si è anche coperto la bocca per evitare che le telecamere riprendessero il labiale è bello dice essere insieme a confrontarsi ha dichiarato il segretario del pd entrando in sala per la meloni invece la prima volta in presenza al meeting l'anno scorso era riuscita a partecipare soltanto da remoto calda accoglienza anche per matteo salvini mentre molto più fredda quella per luigi di maio accolto da un battimano proprio minimo e di assoluta cortesia ma intanto andiamo a vedere ma la flat tax è davvero una buona idea beh intanto per perché una flat tax riesca bene ci sono anche sei condizioni per farla funzionare naturalmente la flat tax significa tassa piatta al 15 20 23 per cento quello che uno decide naturalmente con una tassa piatta bisognerà mettere soprattutto una parte di esenzione da zero non so a 15 mila 18 mila euro lì ci sarebbe una una zona una zona non tassata e naturalmente chi poi guadagna ad esempio più di 15 mila magari 20 mila sui 5 mila successivi pagherebbe il 15 per cento poi se se guardate la tasse le tasse su tutto l'importo sono molto meno del 15 per cento perché da zero a 15 0 per cento da 15 a 20 il 15 per cento e così paga molto meno del 15 per cento e chi poi guadagna cifre più alte paga sempre il 15 per cento oltre i 15 mila euro naturalmente una tassa del genere comporterebbe un vantaggio enorme per chi guadagna tanti soldi al mese è un vantaggio discreto per chi ne guadagna poche decine di migliaia naturalmente come abbiamo detto c'è il nodo della spesa pubblica il primo problema è quello della spesa pubblica perché mettere una flat tax vuol dire che le entrate dello stato crollano quelle per le tasse e si deve sperare che questa flat tax abbia degli effetti quasi immediati per recuperare quanto lasciato in più nelle tasche degli italiani diminuendo le tasse quindi non è che oggi si fa la flat tax al 15 per cento e domani mattina non cambia niente per lo stato perché lo stato incassa più soldi perché lasciandone di più nelle tasche gli italiani gli italiani spendono e spandono che fanno ritornare indietro più soldi di quelli che hanno ricevuto in realtà questo automatismo non esiste è assolutamente una scommessa pertanto la prima condizione è proprio quella del nodo il nodo della spesa della spesa pubblica chiaramente ci sono delle condizioni che bisogna soddisfare perché questa tassa piatta funzioni bisogna fare prima di tutto dei tagli strutturali alla spesa nel senso che se si vuole realmente se si vuole realmente far far recuperare allo stato i soldi per le mancate entrate per la tassa piatta bisognerà fare dei tagli alla spesa in modo che questi tagli possano servire per reintegrare il mancato gettito dato dal appunto dalle mancate entrate per le tasse quindi tagli strutturali alla spesa bisogna poi fare realmente un definitivamente un addio ai bonus e alle esenzioni nel senso tutti i bonus devono essere cancellati perché già col 15 per cento è una tassazione così bassa che tutti i bonus devono essere cancellati in modo da poter utilizzare quei soldi anche le esenzioni devono essere cancellati c'è chi è esente da questo chi è esente da quell'altra cosa ma con una tassazione così al 15 per cento verrebbero cancellate anche tutte le esenzioni poi bisogna rivedere anche il bilancio pubblico un'altra delle condizioni appunto una flat tax serie non è una modifica al margine del sistema tributario e neppure alla sua IRPEF al contrario richiede che il sistema stesso venga ripensato per garantire in presenza di un'aliquota unica è necessario quindi un equilibrio anche nel bilancio nel bilancio pubblico intanto poi c'è questa fase transitoria come vi dicevo che va dal dall'applicazione della di questa tassa unica fino a il sistema l'economia che va così bene che fa recuperare appunto quanto manca allo stato quindi c'è questa fase transitoria che bisogna tenere sott'occhio perché è importante quanto la fase che quando va a regime per evitare una crisi di rigetto essa va accuratamente pianificata in ogni suo aspetto comunicazione informazione e transizione e poi bisogna vedere anche i diritti dei contribuenti però questo lo vedremo poi in un successivo video grazie a tutti per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti grazie a tutti e arrivederci a presto